Ehi, dove vai, bel nasone? Gradirà un po' di vino con il naso. Come il Sirono de Bergerac, anche Charlie ha un naso eccezionale e un grande amore. Perché non le chiedi di uscirci? C'è qualcuno che penso che dovrei conoscere meglio. Si chiama Chris McConnel. Vuole uno col mio fisico e i tuoi discorsi. Di qualcosa di romantico. Auto 3, auto 3. Procedere sulla 279. Confermare, auto 3. Confermare. Ma perché hai detto quelle cose? Dilli che avevi paura delle parole. Che avevo paura delle cariole. Stavolta voglio che tu lo facci. Ehi, voglio che me lo tagli. Per il ciclo Mercoledì si ride. Roxanne. Domani sera alle 20.30 su Italia 1.